Ragazzi benvenuti in questo nuovo video, che bello riavervi qui sul canale, sono stracontento a sto periodo che mi state sopportando tantissimo con questi video Oggi come promesso vi parlo in pochissimo tempo di Clash Heroes e poi andiamo su Clash Quest e che ne dite? Ho sbloccato finalmente il Golem dell'Arena 12, il Lava Golem, aiuto Ieri ho caricato un video sul Ramadan, vi è piaciuto un sacco e soprattutto molti di voi che si aspettavano di vedere un video di Clash Quest Hanno visto il video e mi hanno lasciato dei commenti stupendi, quindi davvero grazie mille Alternare ci sta, ma ogni giorno fisso un video lo avrete Verranno delle challenge con il cibo durante questo mese di Ramadan che saranno divertenti, quindi vi aspetto ragazzi Andiamo in game, andiamo in game perché qui c'è un po' da stare attenti perché ho finalmente raggiunto l'Arena ragazzi questa qui La 12.5, non l'ho ancora fatta, ho aspettato per fare il video con voi, lo faccio per voi Di Clash Heroes non ne ho ancora parlato, ho detto che ve lo avrei fatto oggi ma non lo faccio raga perché non ci sono news Per le date non ci sono, non abbiamo niente, quindi rimette sintonizzati Nei prossimi giorni vediamo, magari anche domani, comunque qualche parola ve la do in un video in cui poi magari continuo con Clash Quest Ok? Let's go Quindi cuffie on e signori siamo pronti per giocare in questa modalità Piccolo update, ho fatto un bel po' di attacchi anche in Lega, ho fatto un attacco in Lega, sono a 11 e sto per salire tra l'altro Che non manca tantissimo, forse riesco a salire tra i primi 5 per salire di Lega al Gold 1 Ho fatto un video su come funzionano le Lega, c'è la scheda cliccabile E qui raga invece ho alzato, ho alzato, ho alzato i miei Goblin al 5 Ho alzato i Goblin al 5 perché con questo gadget sono veramente, veramente OP Quindi li utilizzerò ovviamente in combo cercando di superare i prossimi livelli Il Gigante al 5, ragazzi ho tutte le truppe al 5 Ragazzi sono con PG e NL su Discord oggi perché faremo insieme questo livello qua Sì eccomi Ragazzi PG è già, a che re ne sei arrivato tu? 18 tipo? 18, 18 Mamma mia, quindi ho sbloccato il pecca, tanta roba Raga, mi piace come sempre sotto a questo video, mi farebbe un sacco contento, andiamo PG, è la prima volta che faccio questo livello qui, quindi non ho idea di come sarà Abbiamo Principi, Maghi, Goblin e Gigante, oh cavolo Questa roba è enorme, è la prima volta che lo faccio, quindi raga è un po' una reazione tra l'altro Minito Focus on the Body, ok, dobbiamo focusarci sul corpo Moltissimi mi hanno scritto che sono fermi a questo livello Dimmi tutto PG, come funziona questo livello? Bisogna farlo fuori tranquillamente o bisogna far fuori le parti del corpo? No, bisogna far fuori lui e cercare di non intare le parti del corpo Perché se no perdi solo truppe La prima cosa che si deve fare è tirar la Fireball per rompere le mura Perché non ti servono con le mura E mandare i Principi in mezzo che vanno a colpire direttamente il corpo e non le braccia Esatto, sì sì, tra l'altro ho danneggiato la mano sinistra, esatto Quindi bisogna focussarsi direttamente sul corpo centrale del Golem, giusto? Esatto, soltanto sul corpo principale Iniziamo con i maghi a sto punto, faccio due switch con i maghi Ah, c'è un bel po' di vita questa, ma se clicco sul mostro... Ah, ok, 3800 di vita Oh, belli i Principi Uh, bella l'animazione Ok, se riesci a mettere il Principe di destra verso il destra Esatto, esatto Fai un bel po' di danno Abbiamo la combo Tra l'altro con il gadget del Principe riesco a far fuori quella mano O meglio, faccio danno alla mano ma faccio danno anche al corpo con quel Principe a sinistra Esatto Let's go Buono Misse Ottimo Hai tolto quasi metà vita Abbiamo ancora due maghi, due giganti e due Principi Di Principi dopo devo per forza usarli bene al centro, spero Anche se non ho più switch, quindi dovremmo essere fortunati Ora, 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 i Goblin purtroppo vanno sulle mani Sì, mando il Principe a questo punto, così attacco i Goblin Vediamo Ok, è il momento perfetto per attaccare con tutte le altre truppe, tipo Goblin Esatto Giganti, perché vanno direttamente sul corpo Mando il Principe, così mi sblocco magari un Goblin? Siamo fortunati, ci sta, no? Anzi, no, aspetta, no, no, perché stanno per morire, è vero? Stanno per morire i Goblin Tutti i Goblin che puoi, perché adesso è l'unico turno in cui c'è le mani alzate, che via Ok, cosa cambia quando c'è le mani alzate? Che vanno direttamente sul corpo Ah, ecco, ok, questo ad esempio non lo sapevo Ragazzi, quando alza le mani, potete attaccarlo Con tutte le truppe che vanno sulle mani Esatto, per quanti turni però rimane con le mani? Uno solo, per quello deve essere questo il turno, vedi? Ok, ottimo, ottimo, ottimo Il mago dietro? Sì Esatto Mi sa che ce la facciamo, uh, bello La combo di Goblin ce la fa? No? Ok, scherzavo Principe sicuramente così va al centro Sì, principe Benissimo Devi essere fortunato che ti rialza le mani Goblin, vediamo No, vanno sulle mani Esatto, esatto Quindi maghi Principe, principi, sì Dai, dai, che ce la facciamo Comunque bellissima animazione, raga Stupendo Ok, maghetti facciamo così Sì Ha alzato la mano a destra Eh, vuol dire che sono quelli di un lato Te lo colpi Eh, purtroppo non ce l'hai fatta Maledizione Eh, si va sulle mani Bello, molto interessante Ora che ho capito Riproviamo un attimo Molto bello, molto, molto bello Bella sta meccanica Mi piace Riproviamo ragazzi Riproviamola Questo è il mio terzo tentativo Me lo faccio vedere qua In via Uh, belli sti Goblin, però Eh, però Bruttissimi principi, però Ho qui risposto tutti Mi butto Metà mano Metà mano la toglie, eh Non male sta cosa Facciamo così Io ci manderei tutti i Goblin Però sono sprecatissimi Aspettiamo di prenderci altri principi E poi facciamo gli switch Quindi tutti e tre i libri Provo a usarli per i principi Tutti e tre Quindi facciamo così Mandiamo intanto i Goblin, va bene Anche se, mamma mia Che spreco, mamma mia Ecco Molto, molto, molto bene Questo già può essere interessante Sposta tutto verso Esatto Uh, aspetta però, guarda Aspetta, aspetta però Prima i maghetti mi sono Unirei maghi che muore il mago Dopo che abbracci Ok, giusto Giusto, giusto Ci sta Facciamo così Uh, guarda qui Questo è una porta al 100% forse Se il mani metti tutto a sinistra Uh, la, la Eh, metti a sinistra con l'alto Esatto Così E così Wow Esce una super combo questa Uh, la, la Ah, si che fa vedere Fa vedere quanta vita perde Guarda in alto Guarda sopra Ottimo, vai Proviamo Combo da 160 Via Uh, ha perso la mano Molto bene Molto bene Ah, aspetta Quando perde una Uh Ecco Adesso è il momento perfetto Guarda Hai vinto Hai vinto Hai vinto, hai vinto GG Ottimo, raga Ma questo tecnicamente è un livello difficile È un livello difficile a seconda delle posizioni delle tue truppe Dipende sempre da quello Ole Scappa, scappa Molto bene ragazzi Abbiamo sbloccato anche un'isola Ole 940 di oro Molto bene Abbiamo sbloccato l'isola numero Il libro verde cos'è? Abbiamo sbloccato una truppa Come riserva Ottiene la vita al massimo Rientrando in battaglia Ti fa un backup di una truppa E gli dà la vita massima? Sì Se hai una truppa che magari ti dà fastidio Tu la mangi dietro E niente Ti ritorna tra quelle che devono Molto interessante Nella collezione Figata Ora Proviamo a farne Una Nella nuova arena raga Hotpot 13.1 E qui abbiamo un libro verde Interessante Proviamola Ok Quindi se faccio così Mi toglie ad esempio Diciamo un esempio Voglio fare così Ah Giustamente ne hai messo un'altra Mi hai messo un altro principe Ma va bene Ah Fino a tre libri verdi C'ho in questo match Molto figo Tipo Mettiamo via questo Ok E mettiamo via questo Un altro modo per unire E fare combo Molto bene Vai Facciamo questa partita Vediamo cosa succede Ci mandiamo i barbari Vediamo intanto i livelli Ci sono le torri infernali qua immagino Ok 1 L'ultimo livello è fattibile Molto molto interessante Facciamo un attimo così Anche se Preferisco i libri I libri blu Ma Purtroppo è così Facciamo un attimo Col mago L'archer Molto bene Qui abbiamo i principi Tecnicamente Potrei far fuori Quell'arco E tenere i barbari Per dopo Ci sta Poi Mandiamo il mago così No Voglio mandare il principe Se no ci muore Vabbè fa niente No è ancora vivo Meno male Ok Mandiamoci i barbari Dai Facciamo fuori questo Ci serve almeno la fase 2 Con i livelli alti Basta sempre la fase 2 L'arciera ci Si molto bene Anche se i maghi Così si dividono Ma va bene Questo Così mi libero anche una combo di maghi Molto bene Ok Molto bene Rip Arcieri Uno ci muore per forza Va bene Ho ancora I due razzi Perfetto Uh la la Facciamo così Tac Divisi Quindi un principe purtroppo Ci abbandona Quindi Facciamo così direttamente Mandiamo i barbari Ok Bello il principe lì Ci sta un sacco Lo mandiamo Lo mandiamo Va bene Arciere Maghetti Ok Poi Barbaro E poi combo di maghi Ci sta E qui ci rubiamo L'oro Così Bene Ole 706 di oro Perfetto Raga 8000 Vediamo se c'è qualcosa con 8000 Anche se penso Sì C'è il rocket E basta Alziamo il rocket a questo punto La fireball invece quanto costerà 16000 Quindi no Facciamo il rocket Facciamo il rocket Lo alziamo fino a Nivello 3 Bene Ragazzi Ottimo Ragazzi abbiamo superato il lava golem Di fortuna Ma anche di strategia Tanta roba Cosa ne pensate Dite me se siete riusciti anche voi Se non siete riusciti Ditemi che cosa vi ha bloccato Con un bel commento qua sotto Ok Come avete visto Il video di oggi è servito più che altro Per farvi vedere intanto Che la fortuna È sempre un requisito Un requisito per questo gioco Ma non solamente Domani invece Andremo avanti con le arene Devo sbloccare questo pecca Non vedo l'ora Sarà un contenuto molto figo Per Crash Heroes E Crash Mini Ragazzi Tenetevi sempre aggiornati Qui sul canale Alla prossima Ciao